Padre e figlio accoltellati sono arrivati la notte tra sabato e domenica alle 2 all'ospedale Guzzardi di Vittoria. I contorni di questa vicenda non sono ancora chiari, ma pare che i due di 56-18 anni siano stati coinvolti in una rissa, in una pizzeria di accate, forse per un complimento o uno sguardo di troppo rivolto ad una donna. Al Tafferuglio sarebbero state coinvolte 10 persone, tutte di accate. Sono stati i medici del pronto soccorso da avvertire alla polizia che i due soggetti erano in ospedale con ampie ferite d'arma da taglio su varie parti del corpo. I due sono sconosciuti alle forze dell'ordine. Padre e figlio rimangono ricoverati nel reparto di chirurgia generale. Secondo i medici, guerriranno in 30 giorni. I due sono già stati interrogati dai poliziotti che però, visto lo stato di salute dei feriti, hanno chiesto solo un sommario racconto dei fatti. La polizia di Vittoria intanto prosegue le indagini per identificare le altre persone coinvolte in una rissa. Allo stato attuale solo due hanno avuto bisogno delle cure del pronto soccorso. Gli agenti stanno anche valutando la posizione dei titolari della pizzeria per rilevare eventuali sanzioni di carattere amministrativo finalizzato al mantenimento dell'ordine della sicurezza pubblica.